Ciao a tutti da Diego di TecnoFan.it e benvenuti in questo nuovo video. Oggi il protagonista di questa recensione sono un paio di auricolari di Soundpats che si chiamano Clare. Sono degli auricolari che hanno il case completamente trasparente ma anche l'auricolare stesso è completamente trasparente. Sono davvero molto graziosi, molto particolari ma soprattutto vengono venduti ad un prezzo che lo rendono davvero molto interessanti. 39 euro il prezzo di listino ma spesso e volentieri sono super scontate. Il case garantisce 40 ore di utilizzo, l'auricolare dura circa 7 ore e può essere utilizzato anche per effettuare delle chiamate magari soltanto l'auricolare singolo. Tra l'altro, tra le varie opzioni, c'è la possibilità di sfruttare le ENC che non è altro che una riduzione del rumore di fondo durante le chiamate. L'equalizzatore, come vi ho detto, è personalizzabile tramite l'applicazione e devo dire che nel complesso il suono è davvero molto gradevole. Ma adesso giriamo l'inquadratura e scopriamole da vicino. Nella confezione troviamo il cavetto USB tipo C per la ricarica davvero molto molto corto, i gommini di ricambio, taglia media, large e small, installate ci sono quelle medie, l'auricolare e questo contenitore con all'interno il libretto di istruzioni rapide. Il case, come vedete, è completamente trasparente per quanto riguarda il coperchio. Abbiamo nella parte in basso questo LED che ci indica lo stato di ricarica. Nella parte inferiore troviamo un tasto per il collegamento, il reset, diciamo, del Bluetooth, che vi ricordo che è nella versione 5.3 e questo è l'ingresso per la Type-C per la ricarica. Andiamo a vedere adesso un auricolare più da vicino. Come vedete, e come vi ho detto, è trasparente. Abbiamo qua questo trama di carbonio, mentre nel retro vediamo tutti i componenti interni e devo dire che sono davvero un oggetto veramente super grazioso. Chiaramente ci sono disponibili i tre colori. Io ho scelto la versione nera che è un pochino più sobria, altrimenti c'è anche la versione bianca e quella gialla. Allora, andiamola ad indossare. Il case non è attivo, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando lo apriamo gli auricolari non si collegano. Si andranno a collegare automaticamente quando verranno estratti dalla confezione. C'è un specie di prompt vocale che vi dice se è stato collegato e una volta che li abbiamo collegati, vedete, meglio che li abbiamo inseriti nell'orecchio, vedete che sono davvero comodi da utilizzare. Non cadono, hanno una stanghetta leggermente lunga che io preferisco sempre perché, ripeto, quando effettuiamo una chiamata la stanghetta lunga dà la possibilità di mettere il microfono qua, quindi più vicino alla bocca e per forza di cose sentirà meglio il vostro interlocutore. Devo dire che hanno un buon isolamento passivo. Chiaramente io vi dico sempre di scegliere il gomino giusto. Ci sono tre tipi di gommini nella confezione, provateli tutti. E devo dire che come design ergonomico sono stracomode. Sono molto leggere e per quanto riguarda la qualità audio, devo dire che non sono affatto male. Ok, offrono un suono super esagerato, però per un utilizzo quotidiano, in giro, ascoltare un po' di musica, eccetera, eccetera, devo dire che fanno davvero il loro dovere. Le frequenze dei bassi sono abbastanza corpose, i medio-alti sono abbastanza presenti, gli alti sono abbastanza cristallini. Devo dire che poi, chiaramente, dipende con quale smartphone lo state utilizzando, se con iPhone o con Android, ho trovato una differenza un pochino sul volume. Su iPhone il volume è leggermente più basso, su Android l'ho sentito leggermente un pochino più alto. E comunque, devo dire che nel complesso, ripeto, per il prezzo al quale vengono vendute, sono davvero un ottimo acquisto. Quindi, che dire, io ve le consiglio, vi lascio il link per l'acquisto sotto alla descrizione del video, se cercate degli auricolari un po' particolari, bellini, carini, con questa cover super trasparente, ma soprattutto un regalo, lo vedo davvero molto adatto per un regalo, perché sicuramente farete felice chi lo riceverà. E io vi saluto. Ciao da Diego.